Oggi prepariamo il cipur de patate Cipolle e patate all'origano Tipiche delle nostre zone Che sfrutta i prodotti della terra Gli ingredienti per Cozzo Persone sono Mezzo chilo di patate Mezzo chilo di cipolle di San Pietro Altanagro Sale, origano, pecorino e olio La preparazione è molto semplice Si versa l'olio in questo tegame Abbondante Si prendono le patate E si affettano Facciamo delle fette Non troppo spesse E ricopriamo tutta la teglia Poi si prendono le cipolle E si fa lo stesso procedimento Poi si aggiunge il sale L'origano E molto pecorino Abbondante pecorino Si aggiunge di nuovo l'olio E poi riprocediamo Alternando gli strati di patate e di cipolla Fin quando non finiamo gli ingredienti Di nuovo il sale L'origano L'origano Il pecorino Di nuovo l'olio A questo punto si copre Con la carta argentata Per una miglior cottura Tenendo la carta alluminio Con il vapore si cucinano E' pronta per essere infornata Adesso La metto a 180 gradi Per una mezz'oretta Trascorso una mezz'oretta Andiamo a vedere Se le nostre patate Sono ben cotte E ben dorate Quando ci accorgiamo Che sono ben dorate Sono pronte Per essere mangiate Il piatto è pronto Buon appetito Buon appetito